Nel borgo di Anghiari è tornata a vivere la mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana, protagonisti della manifestazione come sempre l'artigianato di qualità in tutte le sue forme ed il fascino di Anghiari. L'edizione 2018 che si concluderà il prossimo primo maggio conta già numeri record, sono infatti ben 65 gli espositori presenti. Questa è la mostra mercato dell'artigianato, quest'anno è la sua 43esima edizione, dunque vuol dire che è una mostra mercato affermata negli anni che ha sempre puntato sulla sua tradizione, dunque che sono i mestieri, le arti, ma che guarda anche all'innovazione, dunque anche al futuro, la possibilità di aprirsi anche al contesto esterno. Per esempio quest'anno abbiamo come ospite la città per quanto riguarda le ceramiche, dunque la città di Deruta, questo fa capire che comunque Anghiari tutti gli anni cerca in qualche modo di convolgere anche altre città, dunque diventare un luogo anche di dialogo. Non è un caso che questa 43esima edizione, dunque un'edizione molto importante, sia aperta un ulteriore passaggio, che è quello di abbinare non solo l'arte, non solo i mestieri, ma anche la cultura. Quest'anno abbiamo qui a Palazzo Pretorio Genius, curata dal critico d'arte, professor Gianmarco Puntelli, dove ci sono una serie di artisti contemporanei che cercano in qualche modo di rivedere quello che è il tema, cioè quello di Leonardo da Vinci. Grazie.